Buongiorno e ben ritrovati. Oggi vedremo un altro esercizio che utilizza il BJT come interruttore quindi in switching mode. Vediamo che appunto perché questo sia possibile dobbiamo garantire che il BJT lavori o in interdizione o in saturazione ma che venga ovviamente esclusa la zona attiva di amplificazione. In questo caso abbiamo tensione di alimentazione, abbiamo la tensione di ingresso di pilotaggio sulla base che varia tra 0 e 5 volt e quindi o è 0 e 5 volt in una che varia a questi due valori qua di ingresso, la resistenza sul collettore è di 2k, abbiamo un guadagno statico di corrente di 80, vogliamo andare a dimensionare la resistenza di base affinché appunto il transistor possa lavorare alternativamente in interdizione e saturazione. Allora quando vediamo che quando win è uguale a 0 è molto semplice perché abbiamo allora quando win è uguale a 0 va da sa che la ib è uguale a 0 quindi la ic è uguale a 0 per conseguenza la vrc quindi la tensione sulla resistenza rc è nulla e quindi abbiamo che la vce quindi la nostra tensione di uscita ricordiamo che l'uscita si prende sul collettore quindi la vce sarà pari alla tensione di alimentazione vcc quindi 12 volt poiché ovviamente questo risulta aperto e quindi la tensione me la ritrovo qua la vcc me la ritrovo sul collettore quando invece win è uguale a 5 sicuramente il bgt è in conduzione ma devo verificare che sia in saturazione e non vada a finire appunto in una zona che non voglio quindi come si fa? Si va a supporre effettivamente di essere in saturazione dopodiché si vanno a verificare appunto che le condizioni siano quelle che abbiamo imposto quindi in questo caso andremo a vedere allora come prima cosa andiamo a calcolare la tensione su rc allora prima scrivo suppongo suppongo sia in saturazione diciamo così quindi vrc sarà uguale a vcc meno la vce di saturazione che sappiamo essere circa 0,2 quindi allora allora quindi sarà 12 meno 0,2 11,8 volt da questa vado a ricavare la ic corrente ic sarà uguale vrc fratto rc quindi 11,8 fratto 2k e quindi qua viene 5,9 mA ora affinché ci sia la saturazione deve essere soddisfatta la condizione che allora ib sia maggiore di ic fratto hfe e questa riquadriamola che è la condizione importante quindi allora finora abbiamo calcolato l'ic ora abbiamo hfe andiamo a calcolare andiamo a calcolare andiamo a fare ic fratto hfe quindi 5,9 milli fratto 80 e mi viene 0,074 milliampere questo valore lo vado a moltiplicare suppongo moltiplicare da 2 a 5 volte quindi prendo questo valore allora prendo il valore e lo moltiplico per 2 quindi avrò 0,074 milliampere per 2 mi viene circa 0,15 milliampere e prendo questo valore come ib quindi attribuisco a ib questo valore questo mi permette appunto di soddisfare questa condizione perché ovviamente se moltiplico per 2 questo è come se qua avessi un diviso 40 quindi ci sto ampiamente in questa condizione e da questo ricavo e ricavo rb rb sempre con il valore vrb quindi sarà ricordiamo vrb sarà la tensione di ingresso che in questo caso è 5 meno la vb di saturazione cioè i 0,7 di polarizzazione diretta di questa giunzione quindi sarà mettiamo 5 meno 0,7 il tutto allora il tutto fratto ib 0,15 mille e quindi qua mi viene circa un valore di 28 virgola 7 chilo ohm quindi qua circa e qua chilo ohm andiamo a vedere i due punti quindi avremo come punto di interdizione allora diciamo così interdizione punto di lavoro mettiamo P1 oppure anche Poff che è interdetto abbiamo 12 0 invece come saturazione punto di lavoro Pion abbiamo 0 2 e poi la IC che ha 5,9 milli e quindi avremo due valori 1 supponiamo qua P1 abbiamo chiamato P9 P9 e poi qua 1 che sarà da qualche parte quindi 0,2 un 5,9 un po' più scostato ma sarà un puntino qua dove avrò Pion e quindi il mio transistoro salterà da questo a questo bene con questo l'esercizio è concluso spero di essermi spiegata bene che vi sia stato d'aiuto se è stato così mettete un mi piace ci vediamo domani per un altro esercizio per un altro esercizio per un altro esercizio per un altro esercizio per un altro esercizio